Oroscopo del giorno, domenica 23 ottobre 2022 Ariete Amore, questa sarà l'ultima giornata del mese caratterizzata dalla posizione opposta del pianeta dell'amore. Ultime ore difficili nei rapporti. Di certo sarà difficile godersi una domenica leggera in questo senso. Lavoro. Bene per chi sarà preso dagli impegni professionali durante questa giornata. Giove sarà dalla vostra. Toro. Amore, a partire da questa domenica di ottobre Venere entrerà in opposizione. Questo vale a dire che da oggi inizieranno ad esserci i primi problemi con il partner o con una conoscenza nuova per chi è single. Lavoro. Per fortuna tutto ok per chi oggi si ritroverà davvero a che fare con impegni di lavoro. Gemelli. Amore, godetevi la domenica in corso perché questo sarà l'ultimo giorno per ora in cui avrete Venere in posizione buona. Avanti tutta aprite il cuore alle emozioni, alle persone a cui tenete davvero. Lavoro. Bella la posizione di Mercurio per questa nuova giornata del mese. Non avrete degli indoppi professionali da dover affrontare. Cancro. Amore, una domenica difficile ma almeno sarà l'ultima per questo mese. Infatti solo per oggi vi ritroverete ad avere a che fare con gli influssi negativi di Venere che porteranno complicazioni e nervosismi. Lavoro. Ottima la posizione di Giove per chi oggi avrà parecchio lavoro da dover portare a termine. Vi aiuterà. Leone. Amore, venere favorevole per questa nuova giornata vi renderà la domenica di ottobre più che piacevole. Viverla al massimo con la dolce metà o una conoscenza nuova nel caso dei single non sarà difficile. Lavoro. Le buone stelle domenicali renderanno un lavoro agli impegni più semplici e leggeri per oggi. Vergine. Amore, terra le relazioni amorose e di nuova conoscenza o semplicemente familiari sarà una domenica poco impegnativa. Le cose andranno bene ma non ci saranno delle novità troppo evidenti. Lavoro. Le stelle saranno buone perché avrà a che fare con delle questioni di lavoro e dei progetti per questa giornata. Gilancia. Amore, questo sarà l'ultimo giorno del mese di ottobre in cui avrete una Venere pienamente favorevole a sostenere i sentimenti. Proprio per questo vi converrà godere delle emozioni che questa domenica vi regalerà. Lavoro. La congiunzione di Mercurio non vi deluderà e la domenica lavorativa sarà eccezionale. Impegnatevi senza problemi e senza troppi pensieri. Scorpione. Amore. Finalmente questa sarà una giornata positiva e piacevole per voi e per i vostri personali rapporti. Da oggi avrete Venere dalla vostra parte e anche i single potrebbero essere molto favoriti nel fare un incontro. Lavoro. Non ci saranno ancora dei miglioramenti per il lavoro. Se potete oggi cercate di rilassarvi e di recuperare un po' di energie. Sagittario. Amore. Venere sarà nel segno e la domenica in corso non potrebbe andare male ma anzi tutto il contrario per i rapporti. Il pianeta dell'amore favorirà sia le coppie che i single. Lavoro. Anche se domenica questa potrebbe essere una giornata più che interessante per il lavoro. Possibili buone nuove. Capricorno. Amore. La settimana si chiuderà male con Venere ancora in opposizione. Nulla da temere però perché le prossime ore saranno decisamente più fortunate. Da domani avrete più sostegno in amore. Lavoro. Difficile la giornata di chi oggi sarà professionalmente impegnato. Purtroppo le stelle saranno tutt'altro che favorevoli per oggi. Acquario. Amore. Una giornata ottima per i sentimenti, per le storie d'amore o per le nuove conoscenze dei cuori soli. Venere sarà favorevole e lo sarà solo fino ad oggi. Godetevi dei bei momenti di questa domenica di ottobre. Lavoro. Mercurio e Giove sosterranno la giornata odierna di che avrà molti impegni di lavoro da svolgere. Pesci. Amore. Da questa domenica solo belle notizie ed emozioni meravigliose per ogni tipo di rapporto a maggior ragione sentimentale. Da oggi finalmente avrete nuovamente una buona posizione di Venere in favore. Lavoro. Bene sul posto di lavoro perché oggi avrà degli impegni da dover svolgere. Se il video ti è piaciuto metti mi piace. Seguimi anche su Telegram per le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.